Un caro saluto e benvenuto a questo nostro appuntamento settimanale della rubrica televisiva di Teleoltre al Libro Aperto. Come sapete è una rubrica nel quale presentiamo e facciamo delle recensioni su libri di fede cristiana. Oggi affrontiamo un argomento e un libro molto importante di Alfredo Terino intitolato Chi ha scritto i cinque libri di Mosè? Una provocazione ma che soprattutto una ricostruzione scientifica e storica molto importante su uno degli argomenti principi che hanno tenuto banco tra studiosi e accademici in questi ultimi secoli perché sono tanti i misteri, le false attribuzioni ma anche le nuove scoperte sui primi cinque libri della Bibbia. Uno dei testi importanti per poter considerare che dopo più di duecento anni di critica scientifica la spiegazione più credibile al di là delle questioni di fede e della propria certezza spirituale è che sia stato proprio Mosè l'autore umano del Pentateuco. La ricostruzione storica delle vicende del popolo di Israele deve essere corredata come è fatto in questo libro di letture e di documenti approfonditi a volte inediti soprattutto attraverso lo studio delle fonti archeologiche, degli studi e degli scavi archeologici e soprattutto bisogna avere ben chiaro un elemento fondamentale che chi si accosta a questo libro ma chi si accosta alla lettura anche del Pentateuco e dei cinque primi libri della Bibbia deve avere chiaro questo che comunque bisogna credere nell'opera soprannaturale di Dio nell'Antico Testamento. Questo sarebbe, non avrebbe senso accostarsi alla lettura di questi libri avendo delle incertezze e dei dubbi sulla natura divina di questi libri. Sono tutti elementi a cui l'autore di questo libro in maniera molto saggia, equilibrata, delicata fa costante e continuo riferimento perché tenta un recupero della storicità di Mosè e della sua azione di scrittore di Dio. Sapete, io che ho avuto l'esperienza di scrivere qualche libro e tutti gli autori lo possono confermare che credo che non ci sia onore più grande, anzi lo dico con assoluta certezza, di sapere di scrivere qualcosa da parte di Dio e immaginiamoci questi autori, questi uomini che sono stati la penna di Dio, che hanno scritto ispirati dalla potenza rivelatrice di Dio. E questo è un elemento fondamentale perché questa ricerca, al di là di quelle che sono delle questioni spirituali, al di là di quelle che sono gli elementi soprannaturali ai quali i credenti hanno riposto la propria fede, la propria certezza, ci sono proprio degli elementi storici, attendibili, dei documenti, delle fonti che accertano l'autenticità della scrittura di Mosè in questi libri. Una ricerca quindi ben documentata che ha l'intento un po' di aiutare a superare quei rifiuti e quelle critiche che sono state mosse nei confronti di un tema così delicato, soprattutto quindi rivolto ai non credenti che hanno sempre questa posizione scettica nei confronti di queste questioni e di questo argomento in particolare, ma soprattutto anche un testo rivolto ai credenti che spesso sono presi da alcuni dubbi e da alcune paure che colgono la propria spiritualità, intaccano la propria fede perché ci potrebbero essere delle incongruenze storiche, delle incertezze archeologiche, dei dubbi legati a delle vicende, a dei fatti storici. Tutto questo possiamo tranquillizzare anche ai credenti. In questo libro è sapientemente ricostruito. Ricordiamo Alfredo Terino, chi ha scritto i cinque libri di Mosè, Firenze, Ateneum, un libro giunto alla sua terza edizione che veramente in poco più di 170 pagine rappresenta un testo fondamentale per poter vedere come si può risolvere il dibattito che tiene banco tra accademici e studiosi su un argomento molto delicato, sull'autenticità della scrittura di Mosè dei primi cinque libri della Bibbia. Ricordiamo anche che si tratta di un testo diciamo ricco e soprattutto nel quale vengono presentati quelli che sono le ipotesi più probabili. Quindi vengono vagliate, scandagliate, prese in esame tutte le questioni, tutti i concetti relativi a questo argomento e quindi è un libro ricco di bibliografia, di riferimenti che anche per gli studiosi sono fondamentali per capire l'attendibilità della tesi che porta all'autore. Io lo ritengo un testo di assoluta e di grande importanza perché come sempre nel mio stile voglio presentarvi libri che non sono solo rivolti agli specialisti, ai tecnici e gli addetti ai lavori, ma che siano libri aperti e possibili da consultare e da leggere per tutti. E questo è un libro certo che presenta un'argomentazione robusta di un certo livello, ci sono parti in cui viene fatto riferimento a documenti che richiedono una competenza per poter essere letti, capiti e studiati, ma è un libro anche che letto nella sua completezza, nella sua generalità, può consentirci delle riflessioni anche a quelli meno esperti su un argomento fondamentale e soprattutto ci consente attraverso uno schema di capire come possiamo rispondere e come possiamo far fronte a tutte quelle persone che ancora nutrono dubbi sulla paternità di Mosè su questi cinque libri della Bibbia. Noi sappiamo che la nostra fede è fondata sulla rivelazione biblica, cioè su quanto il Signore Dio ha voluto rivelare, ci ha voluto dire attraverso la sua parola, ci ha voluto far conoscere attraverso la Sagra Bibbia. Ricordiamo che tutto questo ha senso però perché è rivelato in maniera da poter essere compreso non solo da un punto di vista tecnico-lessicale, ma anche da un punto di vista spirituale. Il Signore ha ritenuto opportuno darci delle indicazioni, darci delle verità, rivelarci quanto da Lui pensato per le nostre vite in modo da consentirci una serena visione del mondo, delle cose e della vita. E questo è lo spirito col quale bisogna accostarci a questo libro. Non c'è un dramma, non c'è un motivo di disperazione, non c'è un motivo di cruccio per il quale noi dobbiamo per forza venire a conoscenza di alcune cose. Questo è un punto fondamentale perché accostarsi con ansia, accostarsi con continuo affaticamento nei confronti di queste questioni può portarci verso il pericolo, incontro il pericolo di essere poi addirittura superficiali o perlomeno nel tentativo di essere così precisi, di tralasciare quello che poi è il messaggio soprannaturale e spirituale di Cristo Gesù. Quello che mi ha colpito di questo libro è proprio la serenità spirituale con il quale l'autore affronta queste argomentazioni. E ricordiamo che Mosè è un esempio, è un punto di riferimento cristiano per tutti i credenti, per la Chiesa del passato lo è stato e sicuramente lo è anche per noi oggi. E Mosè fu dotato di un'intelligenza particolare dal Signore della cultura e dell'umiltà necessaria per poter comunicare in questo scritto dei fatti, delle verità, delle rivelazioni che sono molto importanti per la vita di un credente. Perché l'idea che oggi il credente debba basare la propria vita e la propria condotta solo su quello che è scritto nel Nuovo Testamento è un concetto, un'idea molto pericolosa perché sappiamo che noi, un vero credente, un vero figlio di Dio a prescindere dalla propria condizione religiosa e la propria appartenenza denominazionale crede nell'interezza, nella profondità e nella attualità della parola di Dio così come è scritta dall'inizio, dal principio alla fine. E per questo dobbiamo capire che gli insegnamenti di Mosè sono validi ancora oggi, lo erano per il popolo di Israele ma lo sono ancora oggi per le nostre vite. Quindi bisogna guardare con molta attenzione a queste verità. Ricordiamo che questo libro snoda la propria tesi attraverso il riferimento ad alcune fonti che sono fondamentali e come vi dicevo prima è rivolto a dei credenti anche a non credenti perché alcune volte si vuole far intendere che la razionalità, che la ragione è opposta alla fede. Invece noi crediamo, io credo, ve lo dico per esperienza ma anche alla luce di alcuni libri come questo oggi preso in esame, che ci sono delle questioni che richiedono anche dei principi razionali e chiedono anche una base empirica a quale noi come credenti possiamo fare appello perché noi non crediamo solo e soltanto per sentito dire o per visione ma crediamo anche perché a delle cose il Signore ci dà un riscontro e un riscontro razionale. È il caso di questo libro, è il caso di questa questione. Ormai sappiate che ci sono degli elementi storici per poter affermare con certezza che è stato Mosè, l'autore dei primi cinque libri della Bibbia, al di là di alcuni misteri e di alcune false attribuzioni che vengono rivolte a questo autore e a questo libro. Bisogna quindi ricordare che attraverso un esegesi rigoroso e sapiente e quindi anche attraverso il continuo e costante riferimento all'elemento spirituale, cioè alla rivelazione biblica, come così ogni credente la interpreta e l'accetta, questo testo può rappresentare un arredo, un contributo fondamentale per la comprensione di alcune delicate questioni che sono alla base di questo dibattito che ha tenuto banco tra accademici negli ultimi 200 anni. Come sottolinea l'autore nella sua prefazione, come vi ho fatto continuo e costante riferimento in questa prefazione, non ha scritto questo libro per specialisti o in maniera specialistica, ma è un testo che è frutto dell'interesse dell'autore di approfondirsi su uno dei temi più delicati del cristianesimo moderno e è importante perché vengono riportati i pensieri degli autori più autorevoli su questo tema che hanno elaborato delle tesi, alcune bisogna dire stravaganti, altre meno, in cui bisogna capire l'importanza e il riferimento che l'autore fa ai documenti, quindi attraverso il riferimento ad un documento, talvolta anche inedito, che l'autore è riuscito a percepire a riportare, noi possiamo capire qual è poi l'obiettivo finale, la tesi finale non solo dell'autore ma anche quello che poi ci è rivelato nella Sacra Scrittura. Lo scopo quindi è quello di rivendicare l'autenticità del Pentateuco e ci sono degli obiettivi che l'autore si pone. Il primo è di offrire un servizio ai cristiani ai quali bisogna dare uno strumento, un efficace strumento per poter far fronte a quelle critiche negative che continuamente vengono mosse nei confronti non solo dell'autenticità di questi libri ma anche e soprattutto proprio sulla natura stessa e sul messaggio stesso che racchiudono questi libri. Perciò bisogna che i non credenti accettino quelli che sono dei fatti storici inequivocabili, quindi al di là del fatto che si crede in Dio ci sono dei fatti che ci fanno riportare, ci fanno credere della veridicità storica di queste argomentazioni. Poi anche come vi dicevo prima è un elemento per i credenti di far fronte a quei dubbi, a quelle perplessità che talvolta soggiungono per capire che Mosè è effettivamente l'autore di questo libro. Nell'indice a conclusione di questa nostra riflessione vi voglio riportare che quest'autore inquadra prima il problema del Pentateuco, quindi prima ci descrive in maniera sintetica quelle che sono le ipotesi di sviluppo che sono nati a seguito di questo dibattito. Poi ci dà quelli che sono dei presupposti convenzionali, cioè che sono dei presupposti che riguardano la ricostruzione della vita e del popolo di Israele, quelle che è la biografia stessa di Mosè, per poi addentrarsi in una metodologia convenzionale nella quale l'autore entra proprio nel vivo della questione a metà del suo libro cercando di capire quali sono i concetti fondamentali che sono alla base di questa teoria e soprattutto anche quelli che sono alla base della teoria che invece vuole una critica negativa e che vuole screditare l'autenticità e la paternità di Mosè di questi primi cinque libri della Bibbia. Si tratta quindi anche di fenomeni problematici che l'autore affronta con intelligenza, con sapienza e questo libro si snoda anche attraverso la descrizione dettagliata dei primi cinque libri che compongono la Bibbia. Credetemi, un testo di 170 pagine che ha scritto i cinque libri di Mosè di Alfredo Terino che merita di essere letto perché ci fa capire e meglio comprendere quelli che sono i concetti fondamentali della teoria che attribuisce a Mosè la paternità dei primi cinque libri della Bibbia. Non vi rivelo altro, non posso farlo come lo faccio sempre nelle mie presentazioni, rimango in argomentazioni generali perché se vi dico tutto sul libro non avrete poi il piacere di leggere, invece l'invito, lo scopo di questa rubrica è proprio quello di invitarvi a leggere, a meditare su queste argomentazioni. Io nel frattempo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata nel quale presenteremo un libro di storia, la storia di Salvatore Anastasio, il pioniere del movimento pentecostale in Campania. Un caro saluto e arrivederci alla prossima puntata. Salvatore Anastasio